E' la prima vittoria, veramente la seconda Coppa Italia se non sbaglio, perché hai già vinto quella da due, il secondo trofeo che porti in società. Eh sì, mi dovranno ringraziare, insomma, voglio dire, qualcosa porto in bacheca, lo tengono in considerazione. No, a parte gli scherzi, sono molto felice che il mio legame con questa società, con questa città è praticamente indissolubile, e sono strafelice per questo anche, di aver raggiunto questo trofeo. Due giorni che possono aver cambiato il volto alla vostra stagione, in fondo questo era il primo trofeo che potevate raggiungere, l'avete raggiunto, ci avete ancora l'Europa e ci avete da essere protagonisti nei play-off. Sì, eravamo ancora in corsa in tutte le manifestazioni e questo ci teneva vivi e motivati, quindi eravamo coscienti che nonostante le disavventure nulla era perduto e oggi ne è nella testimonianza, quindi siamo strafelici di questo. Siete venuti qui a Roma già sicuri di poter creare il campione? No, no, l'abbiamo provato solo il giorno prima, nella rifinitura pre-gara del venerdì, ci ha dato dei segnali confortanti, però Leale è un giocatore che in partita si trasforma. Chi la dedichi? La dedico a tutte le persone che mi stanno vicino, ai ragazzi dello staff che lavorano sodo e ai giocatori che mi sopportano.